Facciamo aquiloni per un bambino Quindi sei dei fan Quindi si può fare No ma fatti questi qua Vi va di raccontare cosa fate due secondi? Ah certo Ma ti faccio girare per la luce allora Ah se c'era qua una ragazzina di quella di prima Beh noi siamo venuti qua Abbiamo fatto costruire aquiloni ai ragazzini Nel senso che il nostro intento è stato anche quello di insegnarli A costruirli utilizzando del materiale base Per cui borsine di plastica Cannazze E poi del filo Quindi tutta cosa che possono trovare qua Tra l'altro ieri è stato molto interessante Perché poi i bambini Noi abbiamo portato un po' di sacchetti Poi i bambini arrivavano con le tende che erano state abbandonate O che erano rotte Le tagliavano e le riutilizzavano Così non le buttavano via È stato molto bello Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille